Infermieri, operatori sociosanitari e professionisti del settore si sono ritrovati in un convegno organizzato a Molfetta dall'Aios, l'associazione impegnata da oltre 30 anni nel campo della sterilizzazione dei dispositivi medici. Si tratta di un processo importante e delicato che richiede la preparazione del personale, per questo l'Aios promuove nel corso degli anni tanti eventi di carattere formativo, ma l'incontro ha rappresentato anche un'occasione per parlare degli obiettivi e delle sfide future. Noi vorremmo come nuovo direttivo di uniformare le procedure di sterilizzazione sull'intero territorio, è difficile, però l'obiettivo nostro come società scientifica Aios è quello di uniformare le procedure del processo di sterilizzazione. Fare un protocollo unico, un protocollo che si potrebbe applicare in tutte le sale operatorie e parlare tutti la stessa lingua. Focus sull'importanza della formazione, ma anche fondamentale farà crescere in tutti la consapevolezza del ruolo rivestito dalla sterilizzazione. Quando si parla di sterilizzazione, naturalmente parliamo di un elemento fondamentale nel prevenire le infezioni ospedaliere, meglio conosciuto come infezioni corrette all'assistenza. La sterilizzazione è il primo gradino nella prevenzione di queste infezioni. C'è parecchio da fare, innanzitutto per quanto riguarda la formazione del personale. Bisogna lavorare ancora per far crescere la consapevolezza dell'importanza che riveste il processo di sterilizzazione. Lavorare perché il processo richiede operatori appositamente formati, competenti, che conoscono la strumentazione chirurgica, le apparecchiature si è passate dall'utilizzo del lavaggio manuale, si è passate dall'utilizzo di macchine automatiche, dei termodisinfettori, si è passate da una semplice convalida delle apparecchiature, alla compaglia delle intere fasi che compongono il processo di sterilizzazione attraverso l'utilizzo di indicatori chimici, biologici e quant'altro.